Cinema con la 39esima edizione degli incontri internazionali a Sorrento. Ci colleghiamo in diretta con Cecilia Donadio. Te la linea. Buonasera, buonasera da Sorrento. Noi siamo in diretta, ma in diretta interrompiamo l'incontro di Vincenzo Salemme che ha inaugurato. Buonasera Vincenzo, grazie di questa... No, con questo qui. Allora, sei qui per inaugurare gli incontri, il tema è comedy. La comedy, la commedia, a far ridere è stato un po' il filo conduttore di tutta la tua carriera e sono 40 anni, sembra ieri, con Eduardo e oggi sei qua a festeggiare un traguardo meraviglioso. Sì, bellissimo. Sono onorato di festeggiare questo traguardo. Innanzitutto sono onorato che tante persone lo sappiano, perché questo mi piace. Vuol dire che ti seguono, vuol dire che ti vogliono bene. Guardate, è successo quando arriva così, con questo affetto. È meraviglioso, fa solo bene. È bellissimo. Allora, usiamo anche questo microfono così, quello che dici lo sentono anche loro. Io ti voglio... Peccato che gli spettatori da casa non possano sentire quello che tu stai raccontando. Tanti aneddoti, tanti retroscena della tua carriera. Però una cosa te la voglio chiedere anch'io. Quando hai scoperto di far ridere? Allora, quando ho scoperto che da ragazzino... Loro già lo sanno, quindi non posso lavare pure questo microfono, perché a questa domanda è già me l'ha fatta. E praticamente da ragazzino io parlavo, dicevo, delle cose che a me sembravano sensate, e invece gli altri, non solo gli adulti, ridevano. Per cui ho cominciato prima a sospettare che fossi un imbecille, poi ho detto, ma quasi quasi, forse ho talento, faccio ridere, e l'ho fatto diventare un percorso di vita. Grazie, grazie Vincenzo. Noi abbiamo qua Remigio Trocchio, che è il direttore artistico di questa rassegna, Comedi, l'anno scorso Crime. Comedi, perché? Qual è la forza della commedia all'italiana? C'è ancora, soprattutto? Sì, c'è una forza, giovane oggi, fortissima gli anni scorsi, e qui abbiamo Salem a rappresentarla. Ci auguriamo che con queste cinque giorni analizziamo un po' questo fenomeno, un po' anche trasversale. Oggi si fa ridere anche col crime, si fa ridere anche col dramma, si fa ridere anche con la politica, con la satira. Quindi questo è un modo trasversale per analizzarlo proprio qui a Sorrento. Benissimo, allora da Sorrento è tutto. Vincenzo, un saluto ai nostri telespettatori, che ti seguono sempre con grandissimo affetto. Vi saluto, è un arrivederci, perché ci vediamo spesso. Siamo proprio amici, amici. Vi voglio molto bene. Ciao, tg-traini. Ciao. Grazie da Sorrento.